Il mercurio d'oro 1685, finalmente posso dirvi di quanti pezzi è fatto un televisore 1685, ma non basta che i pezzi siano di qualità, occorre anche che siano montati da tecnici di qualità Ed è questo il caso di Filco Filco è famosa nel mondo e da oggi nello spazio per la sua qualità Qualità nei televisori Qualità in alta fedeltà Nelle radio a transistor Qualità nei registratori Qualità nelle fonovaligie monourali e stereofoniche Che per la forza viva, per l'elettrone G2 Filco, il televisore che con un clic vi dà il secondo programma Filco, il televisore che con un clic dal secondo vi ridà il primo programma Filco, famosa nel mondo per la sua qualità